La Carfer nasce nel 1985 a Torino come una piccola officina. Negli anni l'azienda cresce sensibilmente e nel 1996 si trasferisce nel nuovo stabilimento di Druento dove può contare su 10 dipendenti. La Carfer si occupa di costruzione, installazione, riparazione e manutenzione di carpenteria metallica. L'azienda è specializzata nel settore edile in realizzazione di ringhiere, scale, recinzioni, portoni, cancelli ed utilizza materiali come ferro grezzo e zincato con trattamenti termici. Le fasi della lavorazione vanno dal disegno dato dal cliente all'assemblaggio del materiale tramite saldatura e rifinitura accurata. Successivamente il manufatto realizzato viene posato nel cantiere del cliente. La Carfer collabora con grandi aziende come Impresa Rosso, Gioppoli e Pulcher, Coema, Dega Costruzioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.